Lo sapevo. Collega. La lute. Lo sapevi. Scusa, collega, qua è pieno di fascicoli, tutti più vecchi di dieci anni. Ehi, possibile? Non possibile. Dico io, sono passati dieci anni, li possiamo bruciare? È regolare, scusa, quante volte lo dobbiamo dire? Se ci sono fascicoli più vecchi di dieci anni, bruciateli. Allora, li brucio? Eh sì, se sono passati dieci anni, brucio. Oh, finalmente. Eh, però collega, dico, prima di bruciarli, fai le fotocopie. Iniziamo a te. Iniziamo a te. Iniziamo a te. Iniziamo.